Dottor Colasanti, Project Fino è stata una delle operazioni principali del comparto MPL nel 2017. Quali sono stati secondo lei gli aspetti più sfidanti di questa operazione? Sicuramente l'aspetto più sfidante è stata la tempistica. Abbiamo avuto pochissimo tempo per fare tanto lavoro, perché il portafoglio era molto grande. Devo ringraziare il mio team, devo ringraziare Unicredit, devo ringraziare i nostri avvocati che ci hanno permesso di poter fare un buon lavoro e poter chiudere l'operazione con soddisfazione. Bene, grazie mille.